Ciao a tutti amici di Let Me Play, bentornati sul nostro canale, io sono Spadolone85, oggi è un giorno solenne, 12 maggio 2023 è uscito Zelda Tears of the Kingdom, sequel di quel Breath of the Wild che nel 2017 spaccò tutto vincendo il gioco dell'anno e ridisegnando completamente il modo di fare overworld. Nintendo creò un capolavoro all'epoca, vedendo i voti di Tears of the Kingdom sembra che Nintendo abbia ridisegnato ancora una volta il modo di fare i giochi e abbia creato l'ennesimo capolavoro. Sarà veramente così? Seguiteci dopo la sigla. Questa caverna non finisce più. Chi avrebbe detto che si sviluppasse così in profondità? Procediamo con cautela. Si parte subito ragazzi, si parte subito. Accompagnati dalla nostra principessa Zelda. Ok siamo nei sotterranei del castello, ci possiamo già parlargli? Ok. Allora dobbiamo prendere un attimino confidenza con i comandi. Allora così si estrae la spada, così ancora non fa nulla, così lancia. se scendiamo ancora le cose potrebbero mettersi male. Eppure con te al mio fianco sento che non ho nulla da tenere, Link. Su, sbrighiamoci a trovare la fonte. Perfetto. Allora stavo appunto prendendo confidenza con i comandi. Per il momento, ecco. Dovrò riprendere familiarità col pad switch perché effettivamente non lo tocco da un po'. Sto vedendo tra l'altro che abbiamo un sacco di vita, un sacco di salute come vedete in alta a sinistra. Non so se il gioco parte già con una quantità di salute così alta o no. Ok. A me non fa impazzire questo stile di dialogo così da dover anche mandare avanti schiacciando il tasto, ma in Zelda io lo concediamo, dai. Che succede? Sono rovine di un'antica civiltà. E queste sono iscrizioni. Saranno della civiltà Zonau? Eh, chi lo sa. Vedremo. Questo posto è incredibile. Queste incisioni, come pensavo, tutto combacia con le informazioni in mio possesso sugli Zonau. Era una civiltà molto antica, vissuta al tempo delle leggende. Prosperò nei cieli e la sua gente era dotata di poteri quasi divini. La citano molti libri di storia, ma mai in modo dettagliato. È una civiltà avvolta nel mistero. Sono statue antiche? Eh, Zelda, mi chiedi tutto? No, non lo so. Se sai tu la risposta, dillo. Forse questa statua ha le fattezze di uno Zonau? Che orecchie grandi? Sono diversi da noi, non trovi? Ma poi come hanno fatto delle rovine di una civiltà celeste a finire sotto al castello? A quanto pare c'è dell'altro più in fondo? Andiamo, Link. Ah, ecco. Perfetto. I libri di storia della famiglia reale parlano di una guerra combattuta tanto tempo fa, tra un'alleanza di popoli e il re dei deni. Le sorti del nostro mondo erano attese a un filosofissimo. Se così fosse, questi murali potrebbero raffigurare proprio quella guerra. Assomiglia alle statue che abbiamo visto prima, è uno Zonau. E questi somigliano proprio a noi India. Gli Zonau sembrano davvero un popolo disceso dal cielo. Secondo la leggenda, la famiglia reale di Hyrule proviene da una stirpe divina che è discesa dal cielo fino al nostro mondo. Se questi murali sono attendibili, allora questi dei scesi dai cieli erano gli Zonau. Sono venuti a contatto con gli Ilia di allora e dalla relazione tra cui i due popoli è nato il regno di Hyrule. Ma a un certo punto è apparso un individuo malvagio che ha sottratto al regno un grande potere. Incredibile, coincide perfettamente con i libri di storia. Poco dopo è apparso il re dei demoni. Ed è così che ha avuto inizio la grande guerra. Se la creatura che è raffigurata qui fosse davvero il re dei demoni, allora... Incredibile! Questa deve essere la grande guerra descritta nei libri di storia. Questi murali narrano la storia completa della guerra dell'esilio. Link è una scoperta sensazionale! Hai visto? Questa tavoletta è opera di pruna. Per fortuna l'ho portata con me. Se ti serve registrare qualcosa, basta premere un pulsante. Il resto dei murali è sepolto e non si vede. Mi chiedo che razza di posto sia. Credo che andando più avanti finiremo per trovare le risposte alle nostre domande. Proseguiamo, Link. Ok, quindi c'erano dei murali appunto sotto terra dove è rappresentato diciamo tutto quello che succede prima che venisse creato il regno di Hyrule o Hyrule, come lo vogliamo pronunciare o lo pronunciamo insomma. E dovrebbero essere eventi legati pure a Zelda Hyrule Warriors che tra l'altro è una sorta di prequel di Breath of the Wild. Ho fatto il simbolo delle virgolette con prequel perché è ambientato tipo cento anni prima di Breath of the Wild. Ma dovrebbe essere tutto legato diciamo da un filo conduttore. Tra l'altro il malvagio era Ganor. Ovviamente. Mamma mia ragazzi, sono emozionato perché era da tanto che aspettavo il gioco ma non so cosa aspettarmi. Questo Link andiamo. Sì. Sì, andiamo. E quello cosa? Sì, andiamo. Sì, andiamo. link no sarebbe quella la spada suprema una lama che va in trantoni con il mio miasma non ti servirà nulla getta e tu portatore della spada link siete la speranza di raul ed è questo il vostro meglio come fai come fai a sapere i nostri nomi non 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 Credo che ti sei risvegliato, Link. Zelda mi ha parlato molto di te. È un po' come se ti conoscessi già. Hai subito ferite quasi fatali, ma sono lieto di vedere che ti sei aggrappato tenacemente alla vita. Il tuo braccio era ridotto così male che la tua vita era in pericolo. Per questo ho deciso di sostituirla. Non si sa ovviamente che fine abbia fatto. Siamo stati salvati da questo braccio, che è lo stesso braccio che ci è stato, diciamo, cucito addosso. Non so, insomma, abbiamo adesso questo braccio che probabilmente sarà il braccio che ci permetterà di avere tutti quei poteri che si sono visti nei vari gameplay trailer durante la presentazione di Zelda. Adesso ci andiamo a riprendere la spada. Spada che si trovava in Breath of the Wild. Però... Ehm... C'è un problema. È stata corrosa. È un problema questo. È stata corrosa dal miasma che ha contaminato i sottotitoli del castello di Irule. Eh, non va bene. Allora, qui abbiamo la prima parte di inventario che è molto piccolina. Intanto, no. Intanto, l'equipaggiamo. Per tagliare queste... Questi rami sarà più che sufficiente. Ok, vediamo se c'è dell'altro qui da... Oh, cosa c'era? Ah, già possiamo... Scusate ragazzi, se guardo il pad, ma essendo abituato con i pad... Ok, non servirà a nulla però ad aggrapparsi qua. Comunque, essendo abituato con i pad della Play e dell'Xbox, faccio un po' di fatica perché sul pad Nintendo qualche tasto è invertito. Tipo la Y, non è dove risiede il triangolo di PlayStation, ma è dove risiede il quadrato, per intenderci. Quindi, tra l'altro, quello che ci ha donato questo braccio ci conosce. Ci conosce perché la principessa Zelda ci ha parlato molto di noi. Ma vedremo. L'atmosfera è bellissima. Mi piace davvero tantissimo. Ok, salta. Saltiamo. Ah, ok. Guizza. Guizza, guizza. Per ricollegarci un attimo a Breath of the Wild, il gioco finiva a Breath of the Wild con, appunto, Link che sconfigge Ganon grazie all'aiuto dei quattro colossi, dei quattro guardiani. E viene... In pratica, Ganon viene sconfitto, Zelda ritrova, diciamo, la sua forma umana. E partono insieme per ricostruire, diciamo, il regno di Hyrule. E adesso è successa questa cosa qui e non si sa che fine abbia fatto Zelda. Ogni tanto penso a cosa sarebbe Zelda sviluppato su un hardware più potente. Perché purtroppo, nonostante la mole mastodontica di Zelda Breath of the Wild e a quanto pare anche di Tears of Kingdom, l'hardware di Switch si sa che è molto limitato. Anche se cadi in acqua da posti elevati non subirei danni. Perfetto. Io vorrei capire anche se ci si può immergere. No. Nuota. Ah, però sì, dobbiamo stare attenti. C'è comunque la stamina, quindi finita la stamina si annega. Perfetto. Quindi come il vecchio Zelda bisogna tenere in considerazione pure la stamina durante le arrampicate, le nuotate, eccetera, eccetera, eccetera. Calzature classiche di fattura semplice non aspettano ancora in vecchio, ma fanno ancora la loro parte. Legare tutti i lacci può essere piuttosto laborioso. Ok, quindi per il momento abbiamo solamente quest'arma e questa gonnellina. Tutto sexy. Ah, prima ho notato che quando Zelda ha tirato fuori quella specie di... Che non era la tavola shaker che c'era nel Breath of the Wild, sembrava più una Switch. Era figo perché sembrava una Nintendo Switch però che fungeva da macchina fotografica. Ecco, vedete raga, tutte quelle zone lì saranno esplorabili man mano che andiamo avanti nel gioco. Quindi ci sarà tutta l'area sotto, che già si vede coperta dalle nuvole, ma c'è. Vi assicuro che c'è. Quindi tutto quello che vediamo qui è tutto totalmente esplorabile. Quindi mondo sotto e tutte quelle sagome di isole che vedete sospese nel cielo saranno tutte esplorabili. Infatti si parla tipo di un gioco che minimo, minimo durerà su un centinaio di ore. Io vi sto portando l'inizio, non porterò ovviamente tutte e cento ore, ma cento e passa. Mamma mia che bella sta scena. Godetevela. Mamma mia che si parla. Dovevo farvela godere Quella scena R Ok Ho notato adesso pure che i cuori Si sono ridotti Completamente quindi Quella scena lì è bellissima e mi piaceva pure Nel trailer quando si butta Quando era sospeso così in cielo bellissimo Ah e Come si chiama lui non mi ricordo Quel drago lì ha un nome Ma non me lo sto ricordando adesso Eh purtroppo vedi In queste aree si vedono Tutti i limiti tecnici Dell'hardware nintendo purtroppo Peccato Ecco tra l'altro Sarà da vedere e poi da fare le prove Sarà da fare poi le prove Con tutte le combinazioni Per creare armi E mezzi Adesso andrò lì Sto solamente esplorando un attimo Per Che magari queste cose che trovo in giro Poi mi serviranno Perché in Zelda Bisogna anche mangiare Bisogna creare le ricette Ogni ricetta Aumenta Aumenta la salute Più o meno salute Ok Oh oh Mollami L'energia della spada Suprema si sta usando Eh normale Ecco Neanche il tempo Abbiamo rotto la spada Bella lì E questa era una cosa Tipo che nel vecchio Zelda Era un po' Una rottura di scatole Perché le armi Si distruggevano talmente Tanto in fretta Che ogni volta dovevi Star lì a farmare Tutto quanto L'ho maneggiato Con attenzione Ancora una forma di spada Appartenuto a un golem Soldato Estremamente affilato Va maneggiato con attenzione Ok Ma se io provo a fare Metti in ordine Scelto di rota Tira fuori Tira fuori Ma volevo vedere Se tipo si poteva Se si poteva magari Visto che ha puntito Sembrava tipo Una forma di spada finale Magari la mettevo Sulla spada rotta Clava Eh si bella clava La clava Io quasi quasi La guibiggerei adesso Bella lì Perché Sono completamente nudo Le uniche cose Che ho nell'inventario Sono quelle che ho trovato adesso Quindi probabilmente Se mi butto A meno che non ci sia acqua sotto La vedo dura A restare in vita Sei amico? Dimmi che sei un amico Perché ho solamente una clava Quindi non so Sembra amichevole Ti stavo aspettando Padron Link Addirittura Ho qualcosa per te Da parte della principessa Zelda Ah eccola La tavoletta di prima Tavoletta di pruna Mi è stato riferito Che si tratta Di un oggetto prezioso Che ti indicherà La via da seguire Perfetto Ha proprio La forma della switch Guarda Sai che figata Guarda Eh A Nintendo Come si auto Come si auto Spamma Numero 1 L'oggetto preferito Della principessa Zelda Possiede un sacco di funzioni Che la rendono La compagnia di viaggio Ideale per gli avventurieri La principessa Zelda Ora l'affida a te Padron Link Secondo i miei dati La principessa Ti attende alla posizione Indicata sulla mappa Della tavoletta Non ho altro da riferire Che posto è questo? Questo è il giardino del tempo E quello è il santuario Del tempo In un passato remoto Quello era il luogo In cui si celebravano riti E si svolgevano Le cerimonie reali Come puoi vedere Ora è soltanto Un luogo dimenticato A cui mai nessuno Si degna di prestar visita Tutti Tranne noi ovviamente Sicuramente Ci dovremmo andare Ok Adesso c'è spuntata La minimappa Infatti anche sotto Ma vediamo Aprendo la tavoletta Che cosa ci dà Ok Abbiamo la mappa Questo è il nostro obiettivo In cerca di Zelda Per zoomarla Zoomiamo così Vedai La mappa è tutta qui È tutta questa Oh madonna È infinita Cioè questa qua Sarà tutta mappa E in più c'è Quella sospesa In cielo E a quanto pare C'è una parte sotterranea Quindi Va bene Ok È un piccolissimo Upper World Andiamo da Zelda Va E salirò 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 Tipo questa è una cosa Che mi è sempre piaciuta Di avere Un limite Di arrampicata Perché ti È tutta strategia Devi calcolare bene Se riesci a salire Su quel determinato luogo Devi aumentare La devi Farmare La devi Far aumentare Il bastone è stato E roversi No Ho sbagliato Non c'ho armi Dammi questo O se no Aspetta Proviamo con questa Che è più potente E dai E questo scudo Mollami Spada arrugginita Mettiamoci questa Dock La voce che hai sentito Prima era l'amore E un tempo Quel braccio Apparteneva Mi chiamo Rana Sono desolato Di dovermi presentare A te In questo stato Come vedi Purtroppo Non ho più Un corpo In ogni caso Quel braccio Avrebbe dovuto Consentirti Di aprire Il portale Ma temo Che abbia perso I suoi Potrebbe esserci Un modo Per ripristinare A tal fine Dovrei visitare Dei luoghi Intrisi Di luce sacra Ma certo Che ne diresti Di provare A esplorare I sacrari Di questa zona Là dentro Troverai La forza Che ti serve E abbiamo conosciuto Il padrone Del nostro braccio Quindi Raul Era quello che Ci ha donato Appunto Il braccio Che può racchiudere Dei poteri Che adesso non ha Perché serve Della forza La forza La otterremo Probabilmente Completando i sacrari I sacrari Sono dei Dei luoghi Dei dungeon Dove Ci saranno O almeno Dove in Zelda Breath of the Wild C'erano tutta Una serie di enigmi Ambientali Da risolvere Per arrivare Diciamo alla fine Prendere Non mi ricordo Se prendevi dei cuori Lo vedremo Comunque Se ci arriviamo E niente Quindi dobbiamo risolvere Degli enigmi ambientali Come era nel Vecchio Zelda Allora Quando è seminato Il portale Del santuario Del tempo È apparso Raul Il provvedere Del braccio destro Stando a lui Per varcare La solle Del santuario Devi recuperare I poteri Del braccio Appunto Come vi dicevo La luce verde Che sta alla spirale Verso il cielo Signala la posizione Dei sacrari Che sono la chiave Per ottenerli Quindi Dobbiamo recarci Esattamente Lì Comunque Poi faremo Anche un bel video Dove Dove Parleremo Un po' Della storia Di Zelda Come è nato Perché io conosco Qualche bell'aneddoto Su Zelda Una cosa banalissima Il personaggio Si chiama Link Perché Nei primi concept Di gioco di Zelda Doveva essere Un gioco Ambientato In mondi Differenti Tipo mondo Futuristico E mondo Fantastico Del passato E quindi Il personaggio Doveva avere Questo potere Di avere Questo collegamento Tra i mondi Poi quell'idea Fu scartata E quindi Da lì però Hanno deciso Di tenere appunto Il nome Link Perché Collegamento In inglese Era Link E hanno deciso Di tenere il nome O per esempio Il tema di Zelda La colonna sonora Quella Più iconica Per intenderci Quella che fa Pa 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 Vabbè Chi conosce Zelda sa È stata creata In un giorno Pensate Ma faremo Faremo un bel video Magari un bel articolo Sul sito Dove vi parlerò Proprio di come è nato Zelda Dei suoi alti e bassi Un po' come abbiamo fatto Con Tomb Raider Che Zelda A parte una parentesi Sulle Panasonic CDI Che tra l'altro Erano prodotti Zelda Ma senza la supervisione Di Nintendo Quelle sono delle porcherie E poi tutto il resto Zelda ha creato Capolavori Di altissimo Altissimo Altissimissimo Livello Ok Primo Sacrario Grazie a tutti Ultramano Un potere che ti consente Di afferrare E muovere oggetti A distanza Una volta afferrati Puoi ruotarli Anche collegarli Ad altri oggetti E questo è uno Dei poteri Che si è visto Nel gameplay trailer Puoi assemblare Quasi tutto In questo gioco Quindi sarà Anche un po' La fantasia Del giocatore Trovare varie soluzioni E questa è una cosa Che mi piace Anche se io Non è che ho poi Tutta questa Fantasia inventiva Ma ci saranno Un milione Miliardi Di giocatori Che avranno Sicuramente Verranno fuori Delle idee fighe Fatte da giocatori Con molta più Fantasia Della mia Potere dell'ultramano Che un tempo Apparteneva A mio braccio Destro Ti permetterà Di muovere E collegare Liberamente Gli oggetti Potrei creare oggetti Come prima Potevi solo Immaginarti Se riuscirei A raggiungere La fine del sacrario Usando questo potere L'ultramano Sarà tua Ok E allora dai Facciamoci questo sacrario In teoria Dovrebbe essere Anche abbastanza Semplice Spero Il primo sacrario Allora Ultramano Allora Afferra Ok Va bene Ok Questo era un po' Vabbè Come i vecchi Sapevamo Eeeh Come si Ok Non riesco a Non riesco a Familiarizzare Subito Con i tasti Della switch Purtroppo Ah Dobbiamo creare Quello che passa Vediamo come sono fatti Se ne passa un altro Ok Quindi Eeeh Afferra Eeeh Scollega Eeeh Ruota Ruotiamolo Così Così Giusto Così Credo Che vada Bene E poi Lo Piazziamo Qui No Tac Via Non devo andare via Eh che figata Abbiamo perso un po' di tempo lì Perché non pensavo Non ho pensato Alla tavola precedente Ma Avrei potuto perdere Molto meno tempo Quindi Il potere È nostro Pertanto Ti faremo dopo Della luce Che purifica Il male Che la sfera della benedizione Ti concede la forza Bello Se ne riuscite ad arrivare in fondo al Sacrario Mi compiaccio Così facendo Hai ripristinato uno dei poteri Prosegui nel tuo cammino Ancora due Sacrari E potrai aprire il portale Del Santuario del Tempo Oh Ottimo Se contrassegni i Sacrari Che vedi da lontano Con una puntina Riuscire a raggiungerli Con più facilità Ti basta usare Il cannocchiale Della tavoletta di pruna Ok Là ce n'è uno Che già si vede Ok ok Ragazzuoli Io direi di chiudere qui il video Questo ovviamente Era solo un assaggio Di quello Che sarà Zelda Tears of the Kingdom Magari più avanti Quando avrò Accumulato più poteri E magari anche Una padronanza migliore Del pad Perché Ho fatto un po' di confusione Perché faccio fatica Abituato con un altro pad E con altre Posizioni Dei tasti Ho fatto veramente Un po' di fatica Ho dovuto guardare il pad Incredibile Ma Questo vi dicevo Era solamente Un assaggio Di un gioco Veramente Mastodontico Ovviamente L'impatto Non è stato Come quello Avuto con Breath of the Wild Perché lì era Una novità assoluta Qua Diciamo che Diciamo che C'è un effetto Come si dice Deja vu Ma Ma va bene così Zelda È Zelda E mi fido Di tutti i voti Alti Che ha preso il gioco Sicuramente sarà Uno spettacolo E lo spero E lo spero Perché io adesso Chiudo il video Ma vado avanti Ovviamente Perché poi Dovrò rifare un video Con tutti i poteri E tutti Vedremo Vedremo Tanto il gioco sarà Talmente immenso Talmente lungo Ci saranno talmente Cose da fare Al di fuori della trama Che non ci sarà Neanche il rischio spoiler Quindi spero di Ritrovarvi anche Sul prossimo video Ma intanto Lasciate like a questo Iscrivetevi al canale Attivando anche La campanellina Per le notifiche Seguiteci su Twitch Perché siamo in live Pure su Twitch 3-4 volte a settimana Quindi Seguiteci anche lì Magari Giocheremo a Zelda Anche in live Chi lo sa Ma Soprattutto Seguiteci su Instagram Sul nostro sito Internet www.letmiplay Italy.it Abbiamo pure il gruppo Telegram Se volete entrare A parlare di videogiochi E da Spadolano85 È tutto Noi ci vediamo Alla prossima Ciao